Oggi mi metto così, un po' tipo Elvis diciamo Allora, oggi parliamo del futuro attraverso i dispositivi questo è il titolo che ho voluto dare diciamo alla giornata il mercato diciamo tecnologico sta andando sempre di più verso l'utilizzo della voce basta guardare l'avvento delle note vocali su whatsapp quanto ha cambiato il nostro modo di comunicare scriviamo molto meno, registriamo molto di più basta guardare la diffusione dei podcast, la diffusione dei video stessi come magari può essere questo perché le radio e le televisioni ancora non stanno affrontando grosse crisi dal punto di vista economico dal punto di vista appunto della promozione pubblicitaria perché ci piace questa cosa di guardare la tv, di ascoltare la radio e c'è qualcuno che ci racconta qualcosa che riguarda un prodotto, che riguarda un servizio, che riguarda un'azienda le aziende le conosciamo così come abbiamo detto altre volte il 56% delle ricerche avviene sì su facebook, sui social o magari appunto su google, sul web ma molto viene ancora da quella che è la vecchia tradizione quella delle radio, quella della televisione dove qualcuno racconta e ci fa vedere quello che ci interessa il nostro obiettivo, un altro degli obiettivi futuri che dobbiamo inserire nei prossimi tre anni è quello di andare a colpire, di quello di andare ad acquisire nuova clientela cercare di promuovere quello che siamo attraverso qualcosa di effettivamente raccontabile, narrabile qualcosa che sia appunto un video, uno spot, un podcast qualcosa che le persone possano ascoltare e fare proprio